Buongiorno 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 Abbiamo anche un'altra notizia che non è assolutamente bella, cioè le dichiarazioni in consiglio regionale di Ciccioli, la mamma era nel posto sbagliato, alluvione bufera sulle parole con cui il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli ricostruisce la tragedia di Mattia, viene anche ripresa nel quotidiano nazionale, vedete qui Bagarre in Regione, la gaffa del consigliere, i morti dell'alluvione erano nel posto sbagliato. Delle dichiarazioni che hanno fatto veramente rabbrividire tante persone e anche tutte le persone che erano presenti, tanti consiglieri regionali si sono alzati e sono andati via durante le sue dichiarazioni. Quindi parleremo anche di questo, ma così come avete visto nel nostro telegiornale ieri sera, che tra l'altro oggi viene replicato e lo potrete rivedere alle 13 e 15, quindi all'ora di pranzo potete collegarvi sull'80 e vedere il telegiornale di ieri sera. Ieri sera abbiamo aperto il microfono all'assessore Enzo Belloni perché ha voluto rispondere ai manifestanti che si erano ritrovati questo fine settimana in un sit-in al Parco Miralfiore per chiedere tutela del verde. Ci riprenderemo il Miralfiore, queste sono le parole. Caso Parco, l'assessore Belloni spiega i tagli fatti per ragioni di sicurezza. Quindi ha raccontato bene i tagli e le opere che sono state fatte proprio per una questione di sicurezza. E poi andiamo e continuiamo a vedere la prima pagina del resto del Carlino. Oggi si parla anche, c'è un'inchiesta, un'analisi dei rider, quelli che consegnano cibo a domicilio, 1000 euro al mese quando va bene. E poi a Giva nella zona di Pantano è stato rintracciato e arrestato un ladro seriale di biciclette incastrato con una foto. Si torna a parlare anche di bollette, purtroppo ogni giorno raccontiamo di chiusure di attività per il caro bollette e per il caro materie prime. In questo caso siamo a Fano, a chiudere è una gelateria. Il titolare mette il cartello in vetrina. E poi si racconta anche l'impresa di Paolo Castellani sul Monte Nerone, un esploratore a 84 anni, nella grotta più profonda. Due pagine che trovate oggi nel resto del Carlino dedicate proprio a questa analisi di un mestiere, un nuovo mestiere che da qualche anno invece è molto attivo. Tanti ragazzi, tanti adolescenti fanno questo lavoro per avere un piccolo compenso, o comunque una busta paga a fine mese e magari aiutarsi negli studi, il lavoro del rider. Il rider è quello che consegna a domicilio solitamente cibo che si può ordinare poi sul web, che viene ordinato sul web e poi viene consegnato direttamente a casa. Come ad esempio Deliveroo, Just Eat, insomma sono tante le aziende che fanno questo tipo di servizio. E allora in queste due pagine vediamo com'è questo lavoro, quanti sono i lavoratori in provincia. In provincia intanto i rider sono oltre 200, molti invisibili. La sindacalista CGL dice che è impossibile contarli, il numero è in crescita. Prima erano i disoccupati del lockdown, ora sono soprattutto giovani. E allora sono praticamente dei fattorini. Ecco i ferri del mestiere, gran parte sono universitari, lavorano quasi esclusivamente nelle città di Pesaro e Fano, perché sono i punti in cui esistono le consegne a domicilio. Il prezzo a consegna varia tra i 4 e i 10 euro e dipende da alcuni fattori, come ad esempio il moltiplicatore che aumenta il guadagno nel caso. Ad esempio in un certo territorio ci siano in quel momento molta domanda da parte del cliente e pochi rider. Le attrezzature. La compagnia, ad esempio Deliveroo, fornisce gratis tutta l'attrezzatura, due borse frigo, dispositivi per agganciare il cellulare a moto o auto. copricellulare, un impermeabile catarifrangente, la maggior parte dei rider si muove in scooter. Allora qui vedete come si muove in scooter oppure in bicicletta. Valentina della CGL che oggi parla in questo articolo, sono difficili da rintracciare, anche noi siamo in difficoltà per avere un contatto e poterli tutelare. Finora solo due cause di lavoro, ma non sono andati avanti perché per loro era stata un'attività passeggera. La vita in sella, questo è appunto il titolo che si dà, ma una volta la cena al cliente l'ho pagata io. Andrea ha 27 anni, lavora per Deliveroo e qui viene intervistato. Decidono l'algoritmo e il moltiplicatore non sempre fila tutto liscio. Quanto si può guadagnare? Chiede la giornalista ad Andrea. Il pagamento delle corse viene gestito da un algoritmo, si tiene conto dei chilometri percorsi, del numero delle consegne e delle fasce orarie in cui si lavora, oltre che di eventuali moltiplicatori. Dunque, se si lavora con il moltiplicatore che non c'è sempre, si può guadagnare di più. In generale si può guadagnare da 4 euro fino a 10 euro per consegna. Chiaramente vi consigliamo di leggere l'intero articolo, se ne volete sapere di più, e quindi acquistare il quotidiano. Ed ora il bosco della discordia è quello che si riferisce al parco Miralfiore. Miralfiore, ieri Belloni, Enzo, in presenza dei giornalisti, appunto ci eravamo anche noi, ha voluto specificare, spiegare bene il motivo dei tagli in questo grande parco cittadino. No ai fondamentalisti, la nostra priorità è ridare il parco ai cittadini. Così l'assessore ha definito, chi l'accusa di una cattiva gestione del polmone verde, disponibile al confronto, ma rifiuto versioni elitarie. E allora vedete qui il perché sono stati fatti certi tagli. Di un paio di segnalazioni ho conservato i video, dice Belloni, si vedono i segni di bivacchi fatti ieri in questo boschetto, che ad agosto era sofferente, anche esso per la siccità pulire tutto il sottobosco è stato un imperativo. Non è vero che siamo i mostri che tagliamo gli alberi, abbiamo tolto il vecchio, il morto, il secco, anche perché in via Cimarosa ci sono diverse palazzine residenziali. La droga e i giornalisti per riflesso spontaneo hanno cominciato a guardarsi intorno. In lontananza si sono viste due persone muoversi furtivamente. Vedete, spiega Belloni, la dinamica è sempre quella. Sono due che si allontanano dal serpentone perché evidentemente non vogliono farsi identificare dalle forze dell'ordine. Quando parlo di responsabilità di un'amministrazione mi riferisco al fatto che è nostra priorità ridare il parco ai cittadini e renderlo sicuro. La nostra priorità ora è che in termini di rischi sia un parco a misura di bambino. Poi andiamo a vedere questo altro articolo, qui cambiamo completamente argomento. Siamo al porto di Pesaro e c'è la guerra delle concessioni. Noi buttati fuori per far posto al nulla. Aste De Maniali parla Panicali della carpenteria navale. Nel 2018 abbiamo perso la gara ma del progetto ritenuto migliore non c'è traccia. A parlare Riccardo Panicali che è ancora in piedi una causa contro l'autorità portuale di Ancona. Ma ancora qui non siamo venuti a capo di nulla perché a distanza di ormai 4 anni non sappiamo ancora che fine abbia fatto la nostra denuncia. Amarezza, chieste spiegazioni all'autorità portuale dicono che non sono più affari nostri. Insomma torneremo a parlare di questa situazione delle concessioni perché si sta aprendo un altro capitolo. Come vedete anche le concessioni scadute, quelle del Moloco eccetera che andremo a seguire personalmente perché chiaramente sono cose che interessano a tutta la città ma anche a tutti i gestori di queste attività che sono appunto nel porto. Cambiamo di nuovo argomento. Ieri c'è stato un consiglio regionale in cui si è parlato in modo specifico di alluvione delle città alluvionate della regione Marche. Chiaramente c'era anche il sindaco di Cantiano Piccini. Fate presto. Ecco qua l'articolo. Altrimenti Cantiano scompare l'appello accorato del sindaco Piccini dall'Aula del Consiglio regionale. 5.000 euro a famiglia e 20.000 euro per le imprese. Le cifre sono irrisorie. Sindaco, qual è la situazione attuale del suo comune? Il sindaco Alessandro Piccini dice A Cantiano non c'è più il fango perché Cantiano non esiste più come la conoscevamo. Abbiamo il 70% delle attività produttive compromesse. Il tessuto economico ha spazzato via. La tragedia ha investito non solo il patrimonio pubblico ma ha toccato il cuore del paese, le famiglie, le aree industriali. È inutile recuperare strade e ponti se la nostra cittadina non c'è più. Quindi gli aiuti devono essere concreti, più importanti e più consistenti. Cantianesi uniti per salvare il paese, anche le proloquo arrivano in aiuto, affollata l'assemblea di lunedì scorso, in cui la giunta comunale faceva il punto a quasi un mese dalla tragedia. Al momento le donazioni arrivano a 300.000 euro. La visita del presidente dell'Unpli, Antonino Laspina, per aiutare anche attraverso le proloquo questa comunità di Cantiano. Intanto, come abbiamo già detto anche noi nel telegiornale, la provincia sospende i pagamenti dell'ex COSAP per questi territori. Siamo i territori di Cantiano, Cagli, Frontone, Pergola e Serra Santaboglio, che comunicheranno di avere subito danni alle proprietà che abbiano reso impossibile l'utilizzo del suolo pubblico. L'onda lunga dell'alluvione, ecco qua, la mamma di Mattia era nel posto sbagliato. Qui a sinistra vedete Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d'Italia e Regione, e qui Silvia e il piccolo Mattia, che sono stati appunto colpiti dalla tragedia dell'alluvione. Imbarazzante ricostruzione di Ciccioli, Fratelli d'Italia in consiglio regionale. I consiglieri DEM abbandonano l'aula, lui alla fine si scusa. E allora vediamo che cosa è successo a Dancona. Scoppia la bufera nel consiglio regionale dedicato all'alluvione dopo l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli. Durante il suo intervento Ciccioli prima ha richiamato l'importanza di investire, poi scoppia però subito il caos per il modo in cui Ciccioli ricostruisce la tragedia dell'alluvione e le sue vittime, compresa la tragedia che tocca Silvia Mereu, la mamma di Mattia, e il bambino di otto anni di San Lorenzo in campo, che la corrente strappa dalle mani della donna quarantunenne la sera del 15 settembre scorso. La donna si salva, grappandosi a un ramo, il bambino verrà invece ritrovato senza vita molti giorni dopo. Dice ieri Ciccioli, anche per quanto riguarda la mamma farmacista Silvia, che purtroppo ha perso il bambino, la donna era uscita insieme ad una collega, ma poi per motivi diversi si sono divise. Una si è fermata a fare una commissione, mentre l'altra si è trovata al momento sbagliato nel posto sbagliato. Una cosa terribile, ma è come quando uno passa nel luogo dell'esplosione. In tarda serata arrivano le scuse di Ciccioli. Nessuno può minimamente pensare che abbia voluto anche solo lontanamente offendere le povere vittime. Chiedo scusa per le parole espresse. E allora qui c'è l'altro articolo che parla proprio di quanto accaduto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Pol per un assessorato. Ciccioli si difende. Come si passa vicino a un'esplosione? Le mie parole strumentarizzate. Come chi passa vicino a un'esplosione? Qui abbiamo appena letto l'opposizione abbandona l'aula, vergogna, così si offendono le vittime. E dire che proprio Ciccioli, forse proprio oggi, dovrebbe essere nominato assessore alla giunta guidata dal governatore Acquaroli, dovrebbe perché ieri sera il clima era molto surriscaldato. E anche per questo proprio Ciccioli si è affrettato a spiegare quello che intendeva dire con il suo intervento. in passato era stato criticato per le sue posizioni su aborto, de natalità e famiglia. E la nomina in giunta adesso è in forse. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Adesso vi leggo perché ho visto che ci sono persone che stanno scrivendo. Quando parliamo di quell'argomento, Ornella, leggiamo anche il tuo commento. Intanto però andiamo in via Branca perché l'Enel staccherà la luce. Si accende però la rabbia dei negozianti. Domani ci sarà l'interruzione dell'energia elettrica in centro per alcuni lavori, dalle 9 alle 16.30. Un centinaio di attività quindi verranno bloccate, salteranno quindi caffè, pizze riscaldate e molto altro. Tanti forse decideranno di tenere giù le serrande. Allora Davide Paso innanzitutto dice, si pone una domanda che è legittima, ma un intervento di questo tipo non si poteva fare di lunedì, che è già il turno di chiusura per tanti. Oggi parla il gioielliere Paolo Bartorelli. Siamo contenti che facciano le migliorie alla linea, osserva Bartorelli, ma chiudere dalle 9 alle 16.30 vuol dire impedire una giornata di lavoro. E quindi questo è quanto succederà domani. E poi i fatti di cronaca. Pesaro, la città della bicicletta. Tanti però sono i furti. E finalmente un ladro seriale di bici è stato incastrato da una foto. Ne ha rubate decine tra Pantano e il Miralfiore. Un cittadino, lo immortale in azione, invia l'immagine al 112 e l'uomo viene denunciato. È importantissimo segnalare, denunciare le cose che accadono, perché vedete quanto è stato importante il gesto di questo cittadino. Ha fatto la foto, con i nostri telefoni possiamo fotografare se vediamo delle cose che non vanno. Ha fatto la foto, l'ha mandata direttamente al 112 e attraverso la foto hanno rintracciato questo ladro seriale di biciclette. Ha fatto razzia di bici dai garage di decine di case di Pantano e nella zona del Miralfiore. Ma l'ultimo colpo dell'altro ieri ci ha lasciato lo zampino. Incastrarlo è stato un cittadino che lo ha visto in azione e lo ha immortalato in uno scatto. È stato lui a mettere a segno solo nell'ultima settimana diversi furti di biciclette. Tra le vittime del ladro delle due ruote c'è anche la figlia, 14enne, di un legale pesarese, l'avvocato Isabella Forlani, che ha voluto raccontare la sua disavventura a lieto fine. Questo uomo, questo ladro, è un 48enne milanese residente a Rimini, ha ammesso tutto agli agenti di polizia. Sulle strade scontro tra Baldelli e Biancani. Il consigliere PD accusa troppe chiacchiere, lavori previsti solo per l'Urbinate. L'assessore dice demagogia interventi per cento milioni. Altro focus in consiglio regionale sulle statali Montelabattesi, Fogliense e Urbinate. Minoranze in confusione su Masterplan e Piano Infrastrutture, ha risposto l'assessore Baldelli all'interrogazione del consigliere Biancani, relativa a chiarimenti sulle opere di ammodernamento della rete stradale ANAS in provincia. Tra gli interventi previsti nel Masterplan, in particolare, è ricomparso l'ammodernamento della viabilità dell'Urbinate. Mancava da dieci anni con l'aggiunta a Quarolli, 17 milioni per la Valle del Foglia, il piano delle infrastrutture. In consiglio regionale però si è parlato, anzi Marta Ruggeri dei 5 Stelle, ha portato all'attenzione della giunta il caso del supermercato di Osteria Nuova, caso che abbiamo anche noi trattato e di cui abbiamo parlato per tutelare i lavoratori dello store 13. Lunedì l'assessore Aguzzi incontrerà i sindacati in Ancona per un confronto. E poi notizie buone, per fortuna, per quanto riguarda la Banca di Pesaro, che aiuta e finanzia l'attività della Fondazione per la lotta all'infarto. Qui vedete anche il professore Ernesto Sgarbi. Così la Banca di Pesaro, dopo aver supportato dai tempi lontani, ha annunciato ieri pomeriggio nella sede di Villa Fastigi la concessione di un consistente e forte contributo per la Fondazione per la lotta contro l'infarto del professor Ernesto Sgarbi. Quindi complimenti alla Banca di Pesaro per questa cosa veramente molto importante, perché le fondazioni fanno davvero tanto, soprattutto per curare o per aiutare alcuni malati durante il percorso della malattia. Andiamo a Fano e qui si racconta la storia di Filippo Bragadin, il gelatiere chiude per rincari energetici, bollette raddoppiate, si lavora in rimessa. Filippo Bragadin ha messo un cartello in vetrina, potevo scrivere ferie, ho voluto essere sincero, ma se la situazione migliora riparto. Ha chiuso causa rincari energetici, questo è il cartello che appunto ha esposto nella sua gelateria, quello che si augura, il titolare del gelatiere si chiama, è che si tratti di una sospensione solo momentanea. Guardo quello che accade in Italia e resto pronto, appena ci saranno le condizioni a riaprire, riaprirò l'attività. E poi c'è stato anche un incontro, si è parlato di questo nell'incontro tra la giunta fanese rappresentanti di CNA, quali prospettive per l'economia tra CNA, Fano e la giunta. E poi addio anche alla biblioerboristeria nel negozio di Sant'Orso, oltre ad acquistare prodotti si scambiavano libri. E anche questo, la titolare Giulia Gasparoli di 33 anni, ha voluto salutare così i suoi affezionati clienti ai quali ha dedicato un aforisma dello scrittore Richard Bach. Il mio esercizio era innanzitutto una comunità di persone con delle passioni. La chiusura dell'attività è dovuta alla crescente difficoltà in ambito commerciale e all'aumento vertiginoso delle spese. Notizie invece che riguardano la piscina, siamo sempre a Fano, una nuova piscina arriva in primavera, Rosati dice sarà a prova di bolletta per fortuna. Il segretario generale della fondazione detta i tempi, entro l'anno i lavori saranno terminati per gli impianti, una impresa fornirà tutti i servizi necessari, resta da fare il bando per trovare il gestore. I numeri saranno 4 vasche, una superficie totale di 3.000 m2, 6 milioni di euro il costo finale. E anche a San Lorenzo in campo si parla di bollette, bollette, contratti fissi intoccabili, e a me l'hanno tagliato due anni prima. Questa è la storia invece di Marco Giglia, che è titolare di Due Bar a San Lorenzo in campo. A proposito delle dichiarazioni di ERA, non è vero che si impegnano a mantenerli fissi fino alla scadenza. Io sono stato liquidato con una mail due anni prima e qui vedete appunto le sue bollette, hanno giustificato la soluzione anticipata con l'instabilità dei mercati, ma se i prezzi invece fossero calati, che avrebbero fatto, avrebbero abbassato il prezzo fisso, assolutamente no. E queste sono sempre le solite, diciamo, fregature che prendiamo noi utenti. Pergola, un set cinematografico in città, gli abitanti potranno recitare, quindi mi appello a tutti i cittadini di Pergola che oggi ci saranno le riprese proprio al teatro Angel del Fuoco, dove si gireranno le scene di questo film diretto da Rita Giancola. Quindi se volete partecipare qui c'è anche un numero di WhatsApp oppure vi presentate direttamente per fare i figuranti di questo film. Mentre c'è questa notizia che arriva da Fratterosa, è stato rimosso l'ultimo banco ma a 20 km per un prelievo. A metà giugno era stato anche chiuso l'unico sportello bancario del paese, il sindaco dice inaccettabile ed ha assolutamente ragione. Alessandro Avaltroni, il sindaco di Fratterosa, che dice che non è possibile lasciare una comunità senza banco e senza banca. A Urbino si parla di arte, si parla di questa chiesa, la chiesa a Walter Valentini. La croce di Castaccolo è stata amputata. A 11 anni dalla decisione di modificare la scultura di Walter Valentini, senza il consenso dell'autore, gli urbinati chiedono il ripristino. A risollevare la questione del campanile è curiosamente il mondo laico. Mentre si pensa già alle luminarie del Natale, perché insomma con questo caro bollette vedete che già i comuni stanno cercando di capire come e in che quantità addobbare i propri comuni per le festività natalizie. In questo caso siamo a Urbino e parla il sindaco Gambini. Per Natale meno luminarie e concentrate nel centro storico. Ed ora andiamo a Fossombrone, messaggi HOT, titolare del centro alla sbarra, massaggi scusate HOT, il titolare di un centro massaggi di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, qualche giorno fa era un altro centro massaggi, qui è un centro massaggi a Fossombrone, 100 euro per un'ora di massaggio, 50 per la metà del tempo. Non erano tariffe popolari perché quelle che si pagavano nel centro estetico cinese nel cuore di Fossombrone. Erano altre prestazioni, fino a quando le forze dell'ordine non hanno sollevato il vero su quello che succedeva all'interno del centro, a processo davanti al tribunale di Urbino con l'accusa di favoreggiamento alla prostituzione, si trova il titolare dell'attività, un uomo di origine cinesi che risulta però irreperibile. L'attenzione degli agenti si concentra sui locali, siamo tra il 2018-2019 prima che esploda il Covid, si scopre che all'interno ci lavorano circa 5-6 ragazze, tutte cinesi, risultano essere dipendenti del titolare del negozio e sono tutte in regola, ma gli agenti capiscono subito che qualcosa non va. Ed ora, questa è la storia di Paolo Castellani, 84 anni, torna ad esplorare la grotta più profonda, la grotta delle Tassare sul Monte Nerone, un'impresa da record, lo ha fatto appunto, l'ha esplorata questa grotta profondissima. Paolo Castellani, alpinista, speleologo ed esploratore, il punto di riferimento per chi come noi del gruppo speleologico Urbinate condivide questa passione, parla appunto il gruppo, domenica scorsa all'età di 84 anni, Castellani è tornato alle grotte delle Tassare. Qui vedete anche una foto di quando fece questa esplorazione da giovane e oggi l'ha rifatta ad 84 anni, davvero complimenti. E adesso andiamo a vedere invece i numeri della fondazione ITS, stiamo parlando di città future, lavora il 75% dei diplomati, la scuola organizza percorsi biennali di alta specializzazione in tutte le marche, ha peso a refano nuovi corsi su digital storytelling e digital communication, appunto l'ITS, turismo e nuove tecnologie, marche con sede a Fano e a Pesaro. Qui vedete infatti i docenti sono per lo più consulenti, imprenditori e professionisti per un istituto che appunto dà lavoro al 75% dei diplomati, quindi i diplomati trovano subito il lavoro. Eravamo presenti anche noi qualche giorno fa per il meeting Ranocchi Software insieme ad NTS Informatica, eravamo presenti con le nostre telecamere, tra l'altro questa sera vi mostreremo questo meeting importantissimo che c'è stato a Milano Maritti, ma vogliamo far vedere il cartello regia. Ecco, questa sera il partner meeting NTS Ranocchi alle 21.20, un incontro molto importante di queste due aziende importantissime del nostro territorio fondate dal compianto Giovanni Ranocchi e adesso ritorniamo sull'articolo e continua quindi l'espansione del gruppo fondato da Giovanni, ora in mano alla figlia Arianna, la vedete qua, istituita una borsa di studio per programmatori, Arianna Ranocchi è presidente della Ranocchi Software, azienda pesarese fondata dal padre Giovanni vent'anni fa e che conta oggi 240 dipendenti e 30 milioni di fatturato con una crescita stimata in un mercato molto competitivo del 10%, quindi davvero complimento a questa grande famiglia e queste grandi aziende che ha avviato appunto il grandissimo Giovanni Ranocchi. e poi alcune città che si mobilitano per trovare fondi per Cantiano e per tutte quelle cittadine che purtroppo sono state colpite da questo devastante alluvione, allora si mobilita il fanese con questa maratona musicale di solidarietà che sarà alla Rocca Malatestiana di Fano per aiutare i cantianesi colpiti dal Nubifraccio, esattamente Cantiano che appunto avete visto come il sindaco dice costantemente che l'alluvione non è finito, non è tutto risolto, Cantiano è un paese piccolo che ha poche attività, quelle che ci sono sono ammalorate, sono completamente da ripristinare da zero e quindi i fondi servono e tanti. E allora questa è una bella iniziativa che vi consigliamo di vivere per domenica 23 ottobre, torneremo a parlarne dalle 14.30 alle 24, la Rocca Malatestiana di Fano si può già comprare il biglietto di 10 euro che chiaramente sarà devoluto al comune di Cantiano quindi partecipate con la vostra presenza a solo 10 euro per vivere una maratona musicale con tanti tantissimi artisti del territorio. Adesso andiamo al Corriere Adriatico e in apertura qui si parla, ecco parto dal messaggio di Ornella Simoncini, Ornella Simoncini dice questi uomini che uccidono lasciano i figli orfani, educhiamo le nuove generazioni che una donna non va toccata nemmeno con un dito. Bravissima Ornella, è proprio così, grazie per mandarci i vostri commenti, è proprio così, perché ricordiamoci che l'uomo che uccide come in questo caso uccide la moglie ma lascia orfani di madre due bambini, è proprio così. E allora vediamo che cosa è successo nelle Marche, siamo a Osimo, femminicidio massacrata di botte davanti alle bambine, è una cosa tragica e fa male anche a leggerle queste cose, anche per noi giornalisti che le dobbiamo scrivere, che le dobbiamo raccontare, che le dobbiamo leggere, sono cose tremende, terrificanti, perché quando si descrive si racconta la realtà e si vive quella situazione. Ilaria Maiorano, 41 anni, uccisa in casa del marito dopo una salita. El Gadassi era detenuto a domicilio, fermato dai carabinieri. Cosa hanno visto le bambine di Ilaria Maiorano? Morta a soli 41 anni nel casolare fattiscente in via Montefanese, dove viveva col marito Tarik El Gadassi e le due piccole figlie di 8 e 5 anni. È il tormento che più scoinvolge i familiari e le comunità di Osimo, che ieri mattina sono stati investiti all'improvviso da una tragedia indicibile tra quelle mura dove Ilaria ha smesso di vivere. La suocera dal Marocco ha chiamato una vicina, vai a vedere che succede. L'assassino dice che è caduta sul pavimento e ha battuto la testa. Cosa poteva dire l'assassino? La vittima. Qui vedete già che è molto triste questa donna che ha scelto un uomo sbagliato, che ha vissuto una storia molto molto pericolosa e anche i familiari gliel'avevano detto, attenzione, un uomo pericoloso, una relazione terrificante, violenta, ma ha continuato insomma in questa sua relazione, in questo casolare a padiglione di Osimo dove è avvenuto il delitto. Un casolare abbandonato completamente, isolata nel casolare di Roccato, protetta solo dai genitori di lui. La relazione pericolosa con il marocchino con precedenti. Viveva in quel casolare quasi di Roccato, coperto da sterpaglie e con i vetri delle finestre rotti, insieme al marito Taric Elgadassi, marocchino da oltre un decennio a Osimo. Una storia tormentata da loro, non solo per i problemi giudiziari di lui, che attualmente era detenuto ai domiciliari, ma poteva uscire per andare al lavoro. Sin dall'inizio quel rapporto aveva incontrato l'opposizione dei familiari di lei. Il padre di Laria, finanziere conosciuto in città, era morto da tempo e la mamma vive in zona guazzatore. Lei e il fratello di Laria avevano sempre manifestato dubbi, più spesso contrarietà alla sua unione con Taric, ritenuta pericolosa, soprattutto conveniente solo per lui, di cui si mettevano in dubbio i reali sentimenti. Il matrimonio in comune, pensate, viene addirittura interrotto dalla polizia perché lui era clandestino. Questo è quanto ancora oggi accade purtroppo nei nostri comuni. Le marche ferite, il dibattito sui nodi dell'alluvione, nelle opposizioni all'attacco, l'allerta insufficiente. La relazione di Acquaroli, il PD lascia l'aula contro la ricostruzione di ciccioli che abbiamo già visto, le vittime capitate nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, vergogna. Le cifre in dramma perché intanto si cerca di capire gli avvisi, l'allerta è stata data l'allerta in tempo reale, no. Le cifre del dramma comunque sono queste. 12 le vittime dell'alluvione del 15 settembre. Una donna che ancora risulta dispersa. 5 milioni il primo stanziamento di aiuto per i fondi. Il fondo attivato dalla giunta a sostegno della liquidità delle imprese è arrivato a 6 milioni con una manovra di bilancio. 5 mila e 20 mila euro i primi ristori a famiglie e imprese. Capite che sono prezzi irrisori insomma per aiutare un'azienda che è completamente invasa dal fango, che è tutta da ricostruire, che si trova a terra, che ha avuto dei danni perché non ha lavorato. Insomma 5 mila e 20 mila euro sono ristori alquanto bassi. Giunta fatta con tutte le deleghe, la sanità resta a Saltamartini che vedete qui nella foto. Antonini, Biondi e Ciccioli si suppone al posto dei neoparlamentari Carloni, Castelli e Latini che sono andati a Roma. In consiglio regionale entrano a Ciarri e Lezzi e Brandoni, ex sindaco di Falconara. E poi anche il Corriere Adriatico oggi dedica un grande spazio al Parco Miralfiore. Quindi vi consigliamo la lettura di tutte le cose che ha espresso Enzo Belloni. Ripuliremo il Miralfiore dal sottobosco dei pusher. La priorità è la sicurezza. Belloni quindi parla, insomma tornando a rispondere al presidio degli ambientalisti che c'è stato nel fine settimana. Niente confronto con chi strumentalizza il parco. Va murata l'ex casa colonica, un freno ai bivacchi notturni. Il comune chiederà alla proprietà dello stabile di chiudere gli accessi perché anche lì insomma è una casa dismessa, non utilizzata e chiaramente viene frequentata da malviventi. Vi ricordiamo che domenica il parco vivrà per famiglie e bambini perché ci sarà a Miraviglia. I bambini potranno portare i loro giocattoli per il baratto e la vendita. Il comune non archivia la stagione. Oggi parla l'assessore Pozzi. Sottomonte lavori alle scogliere. Una serie di interventi contro l'erosione che partiranno a fine mese. Mentre l'influenza qualcuno già la sta avendo o qualche malanno già si avverte. Influenza l'incognita delle dosi. Allora in questo caso vedete il presidente di Aspes Luca Pieri. Partenza senza fretta tra comunali e privati. Pieri dice dal 18 in via Giolitti e Soria. Partenza rilento con l'incognita delle richieste in arrivo per i vaccini contro il virus dell'influenza in farmacia. La campagna si apre la settimana prossima. Martedì 18 ottobre comprende anche le dosi anti covid. Poi andiamo avanti e a Urbino c'è un articolo che invece parla di politica. La scelta del nuovo assessore per Gambini strada obbligata. Cangini non entrò in giunta con la Lega al top. Dopo il settembre del flop ci arriva con Fedeli. Pensava che Gambini avrebbe fatto altre scelte. Risponde una scelta quella di Francesca Fedeli imposta dall'alto. Secondo me non tanto condivisa dalla stessa giunta. Mi è dispiaciuto il modus operandi dello stesso sindaco che Ob Torto Collo ha buttato dalla torre l'ex vice sindaco Guidi. Mentre a Fano nuove terme di Carignano ci siamo. Finalmente ci sarà la presentazione. Dopo una lunga attesa il progetto sarà svelato agli stati generali del turismo ad ospitare la presentazione pubblica del piano di rilancio delle termine di Carignano. Non ancora precisata la data comunque da collocare verso fine mese. Verrà ufficializzata appunto questa presentazione. All'asta fondi agricoli e fabbricati per quanto riguarda il comune di Fano ci sono diversi beni in vendita per oltre un milione. E poi la lupus, cioè gli ambientalisti scrivono alla neoeletta assessora Cora Fattori dal verde alla differenziata tutto ciò che non funziona. Hanno scritto una lettera con tutte le cose che non funzionano a Fano per quanto riguarda appunto l'ordine, l'ambiente, la cultura eccetera. E quindi hanno mandato questa lettera a Cora Fattori che da poco è stata eletta assessore a Fano. E purtroppo l'allarme per quanto riguarda la filiera della solidarietà che è in crisi per l'insostenibile aumento dei prezzi. Anche qui si fa sentire la difficoltà, la fatica perché scarseggiano pasta e latte e gli aiuti alimentari sono in difficoltà. Ora c'è difficoltà anche a reperire due alimenti base come il latte e la pasta. Nella nostra città opera una rete di solidarietà formata da tante caritas parrocchiali che si prendono cura di persone che hanno bisogno quindi questa è l'allarme. Intanto anche qui a Fossombrone si parla di luci di Natale, il comune brucia i tempi per ottimizzare lavori avviati lungo il corso stradale. Lungo il corso la strada è chiusa una sola volta perché visto che ci sono i lavori al corso hanno deciso di installare già le luminarie per ottimizzare con i tempi. E quindi una cosa anche molto intelligente. E poi a Cantiano abbiamo visto le proloco che si sono mosse, le proloco nazionali ad aiutare e raccogliere fondi per appunto Cantiano. L'UMPLI lancia una raccolta fondi per aiutare le imprese di Cantiano. Ed ora passiamo allo sport. Saluto insomma i nostri amici Giuseppe che ci segue da Villa Ceccolini. Grazie a te, a Filippo Baioni, Antonino da Morciola, Roberta e anche a te buona giornata. Borgo Santa Maria, Michela e insomma tutti gli altri che sono collegati. Intanto Sport, Vis, Formazione Rebus per il match di Rimini, Sassarini recupera Gazzuini ma sono fuori di Paola, Cusumano, Rossoni, Marcandella. Gli esami confermano la rottura del crociato out per sei mesi. Marche a rallenti, l'unico sorriso arriva da Pesaro. Queste sono diciamo le serie C delle Marche. Nell'ultimo turno hanno ostentato l'area canatese addirittura è ultima in classifica. Notizia per la VL. Prima sfida al vertice perché sabato sera la Carpegna Prosciutto sarà impegnata contro la cocapolista Bertram Dertona. Tote stiamo costruendo qualcosa di grande concentriamoci sulla squadra e non sui singoli. Il pivot quella con Tortona sarà una gara estremamente impegnativa. E poi vediamo anche il meteo come sarà per questa giornata. Giornata caratterizzata da generale stabilità con cielo sereno e velato, più nubi in serata, le temperature massime fino a 22-23 gradi, quindi ancora temperature piuttosto alte per il mese che stiamo vivendo e questa è la situazione. Nei prossimi giorni, giovedì e venerdì è previsto sole, invece per il fine settimana qualche nuvola nella nostra regione Marche. E adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV. Carissimi amici, vediamo un po'. Infatti questa sera alle 21.20 potrete vedere il partner meeting NTS Ranocchi Software che si è tenuto a Milano Maritti, ma noi c'eravamo e vi lo raccontiamo proprio questa sera. E poi vi ricordiamo che da venerdì parte un nuovo programma targato Rossini TV, Spazio Z, i racconti della generazione Z, un programma che vedrete tutti i venerdì alle ore 19 dove protagonisti sono i ragazzi adolescenti. A condurre questo programma infatti è Letizia, una ragazza adolescente studentessa che andrà a intervistare i suoi coetanei. E poi sabato 15 ottobre alle 16.10 e domenica 16 ottobre alle ore 9 vi trasmetteremo il convegno diocesano dell'Arcidiocesi di Pesaro. Ringraziamo Giorgio Ricci per avere fatto le riprese di questo convegno che vi mostreremo appunto sabato e domenica. di una cosa, sto leggendo il titolo, un attimo, di una cosa sola c'è bisogno. Quindi non perdetevi questo appuntamento sabato e domenica. Stasera il nostro telegiornale 19.40, replica 20.40, seguiteci anche magari nelle repliche se non avete tempo di vederci la sera. E poi ci colleghiamo a? Monte Labate. Vedete, questa è la chiesa di Monte Labate e questa è la webcam che si accende su questo comune. Salutiamo tutto il comune di Monte Labate, il paese delle pesche, paese che insomma noi abbiamo raccontato e che raccontiamo costantemente. Salutiamo tutto il consiglio comunale, gli amministratori locali, la sindaca e tutti i cittadini. E allora grazie per essere stati con noi, buon lavoro a tutti voi e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.